Cosa vuol dire per voi partecipare? Com'è andata quest'anno? Beh, anzitutto per noi partecipare è sempre molto importante, in quanto Cosmoprof comunque rimane una fiera estremamente importante per tutto il mondo. Abbiamo infatti i visitatori che ci vengono a trovare ogni anno e sempre più. Soprattutto in questa edizione è stato un piacere vedere comunque un maggior numero di visitatori che è d'abitudine, che premiano ogni giorno di più quello che è il Made in Italy, che l'azienda continua a promuovere e continuando a produrre quelli che sono prodotti anche estremamente innovativi. Parliamo proprio del prodotto innovativo che quest'anno ha presentato. Ogni anno ce n'è uno diverso, quest'anno la vostra ricerca tecnologica cosa è approdata? Diciamo che quest'anno abbiamo cercato di concentrare quelle che erano le esigenze di un mercato, di alcuni mercati specifici, quindi delle richieste che abbiamo ricevuto dai nostri distributori, introducendo un prodotto estremamente innovativo come il vaporizzatore di nuova generazione, un apparecchio che risulta essere completamente digitale. Non è solo il look a farla da padrone, ma sono anche le caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, che presenta per esempio una superficie, un display completamente touchscreen, dei colori estremamente accattivanti, un LED per un miglior impatto visivo, un prodotto di nuovo ancora completamente fatto in Italia, che sta riscuotendo un estremo successo in quanto, ripeto, non solo bello, ma anche tecnicamente estremamente avanzato. Ci dici due parole su come funziona, la luce non è soltanto estetica ma è funzionale? Assolutamente, allora iniziamo a partire dal concetto di avere un prodotto comunque dalle linee molto pulite, da una superficie liscia, piacevole al tatto, composto da un touchscreen, dove il cliente attraverso la selezione di differenti lingue, sono 8, può scegliere poi un'interfaccia con dei programmi preimpostati o altrimenti manuali per avere il massimo comfort e il miglior risultato nel lavoro che va a svolgere. Abbiamo studiato delle accortezze in più rispetto a quelli che sono lo standard, come per esempio un LED che si illumina per comunicare con l'utilizzatore quello che è lo stato del lavoro, per esempio in fase di riscaldamento abbiamo un LED rosso, mentre possiamo vedere su quello in parte un LED verde che illumina l'acqua nel momento in cui il vaporizzatore ha terminato il suo lavoro, o anche un LED che diventa di colore giallo nel caso manchi acqua, nel caso segnali la necessità di intervento da parte dell'utilizzatore stesso. Ci sono tante accortezze all'interno del prodotto che lo rendono veramente qualcosa di eccezionale, come un pallone diverso da quello che è lo standard, un diffusore che permette un maggiore comfort e ripeto una forma estremamente di design, visto che il parrucchiere è parte di quello che è il mondo della moda, è sempre attento non solo all'aspetto tecnico, ma soprattutto a volte anche a quello che è il design del prodotto stesso. Grazie